Favaceno, il tuffatore. Insomma, è un po' un... non so se Nino Migliori si sente assillato, rincorso da questa foto, che è un pochino così, oppure no? Sì o no? Secco? No. Non mi identifico con quella foto perché è frutto del caso. Oh, esatto. Allora vogliamo, diciamo, ai visitatori di Dammi il Tiro, se Nino Migliori ci racconta questo caso di questa foto. A proposito, c'è qua in studio qualche parte questa foto? Oppure da qualche... ah! Così, eh? Sei già subito dove... Per caso. No! Ah, questo è il formato suo. Eh? Sì, questa è una foto fatta con una macchina, una Rolle flex, 6x6, ed è formato quadrato. Qui manca una strissetta sopra e una sopra. È formato quadrato? Quindi, sì. Perché le tagliaste? Eh, perché allora le carte, in quel periodo, erano tutte rettangolari, di sotto 24, 24, 30, 30x40. E allora si era abituati, per non sprecare carta, a stampare nel tipo di carta che era più congegnale. Quindi si tagliava prevalentemente, per non ridurre la foto, tenere la più ampia possibile, si tagliavano le parti che interessavano meno sopra e sotto o di lato e si faceva rettangolare. Alcuni, alcuni io facevano quadrati, insomma, ma io facevo... Eh, niente. Casuale. Casuale. Dov'eri? Ero a Rimini, sul molo di Rimini, che volevo esaminare questo tipo di tuffi, che erano fatti in modo particolare con una corsa di due metri, tre metri, e il salto, vedere se si riusciva ad avere la posizione orizzontale del tuffatore, con una rincorsa così breve. e riuscì per colpo, puro colpo di fortuna, alla prima e al secondo scatto, feci due scatti in tutto, uno completamente mosso e questo perfettamente efficace. Tufforo Magnolo? Eh, tufforo Magnolo, sì. 1900? 51. 51. Un'estate del 51. Un'estate del 51. Quindi in quel rollino lì ci sono due scatti, uno mosso e uno questo, quello buono. Sì, perché lì la caratteristica era questa, che c'è il tuffatore, è seduto, e il tuffatore lo scavalca e si mette in posizione orizzontale, e il fratello. La posizione dei due visi è perfettamente collimante, perché questo è da notare, con parte del... ecco. Con l'asse... Questo è l'originale quadrato. Sì, questo è l'originale, è la coppia del negativo, è la stampa diretta del negativo. E tu hai tagliato sotto? Ho tagliato appena un po' sotto le gambe e appena un po' sopra di cielo. Però guarda la differenza che c'è fra i piedi e il bordo, fra le mani e il bordo. Sì. Quindi, fatto in una frazione di un 125 esimo, con una macchina a pozzetto, non può essere che un colpo. Comunque nota invece le altre caratteristiche. E comunque questa qua, tu sei legato ma non sei ossessionato da questa... Non ti identifico con questa cosa qua? No. Ok. Grazie. Grazie.